buon pomeriggio ragazzi oggi parliamo di reti di calcolatori ieri abbiamo visto questo è un sistema operativo quindi cosa serve ad una macchina per funzionare oggi andiamo a vedere cosa serve per far comunicare più macchine e quindi andiamo a vedere come sono strutturate le reti come funziona una comunicazione tra due computer che differenti tipi di reti possiamo avere e così via ovviamente di nuovo è un'infarinatura qualcosa che secondo noi reputiamo necessario a voi per comprendere l'argomento per avere un minimo di conoscenza di base perché 20 di nuovo reti di calcolatori c'è abbastanza materiale per fare un corso due corsi tre corsi quanti ne volete insomma allora innanzitutto andiamo a guardare a classificare le reti calcolatori in base alla loro dimensione si parte da una rete piccola un metro che è l'area la rete personale sembra assurdo ma in realtà noi lo utilizziamo a giorno d'oggi utilizziamo spesso basta pensare al proprio cellulare connesso alle proprie cuffie bluetooth o ad uno smartwatch dispositivi che vabbè magari si va oltre il metro ma comunque il raggio è molto limitato mi capire spesso magari sono una conf call mi alzo a prendere magari una bottiglia dell'acqua in cucina e già la mia mia auricolare mi dice connessione persa perché questa è un'area è una ci sono poi altre reti che sono molto più comuni sono le stiamo al local area network che sono a seconda della propria configurazione può essere una rete una stanza quindi la rete del nostro laboratorio via tiburtina può coprire un intero edificio o arrivare fino anche ad un campus universitario quindi per esempio la rete che può che può essere all'interno della città universitaria sapienza ora noi siamo dislocati separatamente il dia che è dislocato separatamente però all'interno abbiamo una lan che è veramente relativa a tutta città universitaria poi passiamo alle reti metropolitane e infine si passa a quelle ben amate wide area network delle reti che hanno quindi dimensioni di nazioni continenti e così via e tutto insieme si arriva a internet che è una rete planetaria che mette insieme tutte quante queste sottoreti ora nella presentazione non si parlerà di wide area network non si parlerà di metropolitane area network ma ci focalizzeremo principalmente sulle local area network e internet ha senso reti nazionali non so forse sì forse no in realtà ha senso e ci sono basta pensare che per esempio noi abbiamo la gar la gar è una rete creata in passato che unisce le principale alle università italiane nata quindi inizialmente quando probabilmente la rete serviva solo a scopi di ricerca quando ancora le aziende non erano connesse a rete il computer erano dei dispositivi che funzionavano da sé a quel tempo le università già iniziavano a comunicare avevano creato questa rete che poi è andata a crescere fino a connettere l'intera nazione e è diventata probabilmente quindi una delle principali reti nazionali poi ovviamente c'è la rete magari di telecom la rete di fast web ognuno ovviamente c'ha una sua rete a livello nazionale che copre tutto quanto o a volte si appoggia ad altre reti partiamo a parlare delle local area network principalmente distinguiamo due tipi di rete wireless e cablate le reti in entrambi in entrambi i casi quello che conta è la presenza di un dispositivo a cui si allacciano tutti quanti i computer nel caso del wireless si si chiama access point che probabilmente propaga un segnale wireless a cui si collegano tutti i vari dispositivi nel caso del cabrato il dispositivo si chiama switch e ha delle porte in cui si attaccano cavi di rete spesso e volentieri nuovamente gli access point wireless offrono anche delle porte di rete a cui collegare vari dispositivi in modo che uno possa scegliere se arriva se utilizzare la modalità wireless o la modalità wireless principalmente quando l'access point ovviamente è connesso a qualche altro dispositivo via normalmente via cabrato quindi magari in casa nostra noi abbiamo il router della fibra o adsl o quello che avete è connesso via fibra al vostro fornitore internet e poi da quello se volete o potete connettervi via cavo normalmente ci connettiamo via wireless all'interno della struttura più grande normalmente abbiamo più access point che servono per portare il segnale dove dove il router principale non lo porterebbe e generalmente dall'uno dal router principale quindi dal dispositivo della nostra fibra per intendersi a vari access point si passa a un cavo perché per un semplice motivo fondamentalmente la rete wireless genera tanto rumore e abbiamo e se noi connettiamo un access point via wireless al router il router principale e a quell'altro si iniziano a creare tanti dati su sulla rete sul wireless sull'ethere che fondamentalmente sono rumori l'ethere non è un canale pulito come è il wireless basta pensare l'esempio più semplice anche per rendervene conto se riuscite a collegare un computer via cavo vi andrà assolutamente più veloce che via wireless perché perché un cavo un cavo è un canale schermato dove viaggia solo quel il segnale di internet l'ethere dove noi trasmettiamo wireless ovviamente è un canale molto più rumoroso vi è tantissimi segnali dalla luce che è un segnale fino alla rete wireless fino a più dispositivi che ovviamente comunicano sulla stessa frequenza per esempio del del router wireless una delle frequenze ovviamente usano più frequenze su una di queste ci comunicano per esempio anche i telefoni wireless usano le stesse frequenze quindi ovviamente abbiamo su quella frequenza due segnali che interferiscono e si danno noi e ovviamente oltretutto quando si va a trasmettere su un canale si trasmette non abbiamo la politica di guardiamo se qualche di un altro sta trasmettendo e quindi in questo caso avere addirittura due access point che comunicano su con il computer tutti sullo stesso canale in qualsiasi momento può trasmettere ovviamente si può generare tanto rumore tanti conflitti che poi possono causare quindi problemi mentre su un cavo di rete sono comunque connessi solo due dispositivi sul cavo di rete se per intendersi se questo computer deve parlare con questo switch su questo cavo di rete che stanno comunicando solo loro due quindi se questo switch mettiamo connesso a questo access point via rete per arrivare a parlare con quest'ultimo computer bene qui qui stanno trasmettendo solo loro due tramite questa connessione stanno trasmettendo solo loro due qui ok abbiamo quattro dispositivi in quest'ultima parte posso avere rumore però se anche loro connessi fossero connessi via etere significa questo anche se passa da questo crea una frequenza che ovviamente può essere disturba crea dei dati che possono creare disturbo alle umane azioni tra chiunque altro quindi in generale una connessione via cavo ha sicuramente una qualità maggiore d'altra parte però ovviamente il wireless ci dà dei vantaggi che la connessione via cavo non ci può dare ci può fornire portabilità noi il nostro portatile lo possiamo portare ovunque non richiede dei lavori infrastrutturali perché se io voglio poter connettere un computer utilizzarlo in camera da letto con wireless porto portatile in camera da letto via cavo mi tocca passare un filo e portarlo in camera da letto passiamo invece ora questo era per vi ho introdotto brevemente probabilmente la LAN non sono stato a parlare ora molto in dettaglio mentre il resto della lezione voglio parlare di internet cos'è internet? internet è un insieme di tanti aspetti da hardware a software, protocolli e così via partiamo intanto dall'hardware quali sono le componenti di internet? le componenti di internet sono tantissime si parla di milioni di dispositivi collegati forse già ormai anche a miliardi quando sta scritta questa slide per esempio non si parlava di IoT quindi con l'avvento dell'IoT si parla ormai di miliardi di dispositivi che possono essere host che sono dispositivi finali ovvero le nostre workstation i cellulari i computer e così via ma anche i server i server di chi ci fornisce il dispositivo di chi ci fornisce la creazione di chi ci fornisce la pagina internet e così via sono i mezzi trasmissivi quindi tutti i cavi che sono utilizzati tutte le connessioni dai nostri fili di rete alle nostre connessioni wireless della nostra LAN perché anche la nostra LAN poi sarà connessa di internet quindi anche la nostra LAN fa parte di internet in un certo senso quindi potranno esserci tanti mezzi trasmissivi la fibra il doppino telefonio quindi il classico cavo di rete canali radio comunicazioni satellitari e così via e in mezzo a tutto ci sono dei router dei router che servono per creare delle connessioni e per creare un percorso perché ovviamente nel momento in cui noi andiamo a chiedere la pagina internet ora erroneamente spesso e volentieri associamo internet al world wide web internet non è solo quello il world wide web il www quindi le pagine internet noi andiamo a visualizzare è solo un'applicazione che funziona sopra internet internet è tutta la struttura che c'è sotto il world wide web è l'applicazione più grande che abbiamo sopra internet però ovviamente quindi ora prendo ad esempio il world wide web e il momento in cui noi vogliamo collegarci a una pagina youtube non abbiamo una connessione diretta a quella pagina mettiamo che qui sia dove risiede noi partiamo dalla nostra dal nostro computer dovremmo fare quindi un percorso per arrivarci e nel mezzo ci sono i router dei dispositivi che si preoccupano di instradare il nostro la nostra richiesta quindi tecnicamente internet è composto dai server da tutti gli host tutti i back end quindi tutti scusate tutti i dispositivi tutti gli end system server computer cellulari dispositivi IoT ormai in mezzo ci sono tutti i router e tutti questi sono connessi l'uno all'altro attraverso alcuni mezzi rasmissivi questo dal punto di vista hardware cos'è internet? internet ve l'ho già accennato internet include anche la nostra LAN quindi internet è una rete di reti in particolare noi si può vedere all'interno eh varie reti dalla nostra rete locale la rete di casa nostra che altro non è che 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 altro non è che praticamente una rete privata in questo caso una rete privata ora qui in questo disegno di questa rete scusate questa non è la rete di casa nostra è local internet service provider scusate vabbè comunque anche la rete di casa nostra fa parte di internet ovviamente non è che per connettermi a una per richiedere un servizio che è su un altro computer per una comunicazione tra due computer della nostra rete si va a utilizzare internet a volte in realtà a volte si perché se io mi metto a comunicare tramite skype con mia moglie che è nella stessa che è nella stessa appartamento è collegata alla stessa rete in realtà io può passare attraverso un server di skype quindi una comunicazione skype passa attraverso internet poi magari dopo non so esattamente come funziona skype skype crea una onnessione di rete magari non esce nemmeno dubbiso dalla nostra rete però di base dobbiamo capire che si può tranquillamente uscire cos'è una rete local internet service provider semplicemente è il service provider è il nostro fornitore di rete quindi io ho non è che vuole fare pubblicità però io ho team c'è chi ha vodafone chi ha chi ha insomma quello che vi pare per intendersi nel momento in cui noi ci colleghiamo ci colleghiamo ad una struttura locale che probabilmente avrà di suo server in cui terrà i dati degli utenti locali a sua volta questa avrà un'area regionale che collega tutti i vari dispositivi anche perché poi ovviamente questo il nostro service provider può anche avere differenti differenti tipi di tecnologie quindi io mi collego via fibra al mio service provider service provider offre anche connessioni wireless con telefonia mobile e così via quindi comporta anche questi router ovviamente servono anche per fare anche un cambio di tipologia di connessione a sua volta queste viste appoggeranno ad altre deti e così via che poi arriveranno magari alla rete della compagnia con cui io mi voglio collegare che può essere la compagnia per intendersi google a cui io richiedo il video youtube e al suo interno ovviamente la compagnia sarà una rete molto più grande che comporterà connessioni diversi tipi quindi da connessioni ovviamente radio a se necessario a passare da satellite a cablate a internet avrà anche cavi proprietaria nonostante magari grossissime dimensioni aziendali si può pensare ad una azienda che è dislocata negli Stati Uniti che magari ha passato un suo cavo per le connessioni tra la costa est e la costa ovest proprietaria per se stessa i protocolli questa rete ovviamente per funzionare ha bisogno di protocolli protocolli che regolano la comunicazione tra sistemi sistemi che possono essere di differente natura come si è visto tramite dispositivi di differente natura e mezzi di comunicazione di differente natura questi protocolli sono protocolli ci sono tantissimi protocolli ormai standard TCP IP si vedranno dopo fino a protocolli di applicazioni l'HTTP High Transfer Test Transfer Protocol file transfer protocol l'FTP che servono per definire delle modalità standard per la trasmissione di alcune informazioni che permettono quindi magari a utenti che hanno sistemi riferenti comunque in qualche modo di colloquiare ovviamente questi standard sono stati definiti e ci sono state delle fasi in cui per esempio durante una fase rfc vengono definiti i standard si richiede dei commenti e poi dopo vengono standardizzati i resi ufficiali e via internet principalmente è gestito da uno dal IETF che è l'Internet Engineering Task Force cos'è un protocollo? passiamo un protocollo ciò che permette la comunicazione come si è detto che permette una comunicazione permette un interfacciamento e così via pensiamo a un protocollo umano cos'è un protocollo? altro non è che un invio di specifici messaggi e risposte quindi che ora è? sono le 16 e 30 bene sto fornendo una risposta conosciamo il protocollo io so che se voglio saper l'ora chiederò a qualcuno che ora è e alla domanda che ora è lui guarderà l'orologio e risponderà con quell'ora che ora è a me piace la pasta è un'assenza di protocollo insomma per intendersi quindi inviamo dei messaggi specifici a cui corrisponderanno poi delle opportune azioni e risposte uguale vale per la rete avremo delle macchine il protocollo di rete comporta che avremo delle macchine e che dovranno comunicare e tutte le comunicazioni di queste macchine avverranno attraverso dei protocolli i protocolli quindi definiscono il formato come inviare l'ordine in cui si inviano messaggi come si ricevono le azioni che vanno intraprese quando un dispositivo riceve un messaggio e così via prendiamo l'esempio un protocollo un protocollo per chiedere l'ora ad un passante io parlo incontro una persona non so che ora è salve scusi questo risponde salve scusi sa che ora è sono le 16.30 perfetto ovviamente un protocollo bisogna notare che ha una linea temporale questi scambi di messaggi avvengono un certo ordine nel tempo ovviamente come ho detto questo funziona anche per una comunicazione ora omettiamo il fatto di tutti quello che c'è in mezzo io vi ho detto ci sono i dispositivi di ammissione ci sono i router in mezzo guardiamo solo i due estremi il computer che fa una richiesta ad un server quale indipendentemente da quale sia lo scopo di questa richiesta prima di tutto e cosa farà chiede come ciao ciao abbiamo instaurato una comunicazione ho fermato la persona prestata l'ho bloccata un attimo per potergli fare la domanda così fa su internet e gli si dice per educazione non si dice a youtube mandami quel coso prima di tutto cosa si fa? si crea una connessione con il server youtube ciao server io vorrei parlare con te io ho una richiesta per te il server risponde ok io sono disponibile a parlare con te cosa serve adesso? serve per vari scopi poi magari si vedranno meglio serve innanzitutto per stabilire anche un percorso di comunicazione io prima devo trovarlo io chiedere a youtube che un video comporta trovare dove fisicamente serve youtube ricevere la risposta significa anche l'ho trovata e comporta anche ovviamente il server youtube è molto potente in grado di rispondere a tante richieste però supponiamo magari in un certo momento non lo sia il server youtube in un momento in cui sta fornendo tantissimi video potrebbe anche rifiutarla in alcuni servizi in cui siamo registrati serve anche per poter dire oh io sono Netflix io sono registrato e sono abbonato quindi vorrei in questo momento andare a guardare un film sì ok ho controllato se è a posto bene a questo punto si va a chiedere al server le nostre informazioni ora per esempio ora qui prendi get prendi questa pagina http e lui risponde con il file perché anche la pagina http che noi andiamo ad accedere altro non è che un file all'interno del server il video youtube che noi andiamo a prendere altro non è che un file all'interno del server torniamo un attimo ora andiamo a guardare ancora più in dettaglio guardiamo la nostra struttura la nostra struttura se detto è composta da dal bordo l'edge quindi poi andremo a vederlo meglio ognuno è composta quindi dal edge scusate dal quindi nel edge abbiamo i nostri dispositivi e tutte le applicazioni che girano sui nostri dispositivi ovviamente a noi ci interessa le applicazioni che comunicano in rete perché il blocco note che non fa comunicazione in rete per internet non ha importanza insomma poi c'è il cuore della rete che è composto come si è detto in legge c'è anche visto da tutti i router e il mezzo fisico e ovviamente i nostri protocolli dovranno quindi definire degli standard per tutti questi aspetti noi quello che ci interessa ovviamente è una comunicazione tra due dispositivi che sono ai bordi della rete non ci interessa una comunicazione con il router ciao router infostrada come stai non ce ne può fregare di meno tutto quello che ci interessa sarà un'applicazione vista magari poi a chi gestisce la rete gli può interessa anche quello ma noi ovviamente interesserà sempre la connessione tra due dispositivi al bordo questi due dispositivi a bordo eseguono applicazioni che possono essere da www all'invio di email a a una chiamata skype eccetera eccetera di base normalmente quando due dispositivi devono comunicare possiamo distinguere tra due modelli in particolare uno è il modello client server in cui abbiamo un client che fa richieste e riceve dei servizi dal server e il server risponde a queste richieste ovviamente questi server sono dei server che ricevono richieste da tantissimi client oppure possiamo avere un modello peer to peer dove probabilmente i due dispositivi sono molto simili allora questo è il caso di teleconferenze quindi il giorno d'oggi google meet zoom skype tutti questi servizi che per che ovviamente si passano da un server ma il server in realtà serve giusto per mettere in comune azione raccogliere alcuni dati poi non è che un server si metterà a far passare a tre stesse tutti i miliardi di chiamate zoom per intendere che si passano ora sempre giusto per la gestione della connessione oppure i torrent nei torrent noi andiamo a chiedere il nostro torrent a qualche di un altro che ha quegli stessi dati che noi stiamo richiedendo il torrent di per sé quindi non è un'applicazione centralizzata il torrent è un'applicazione distribuita dove tutti quanti mettono a disposizione quei file di quello specifico torrent chi ce l'ha o lo richiedono chi ancora non ce l'ha non passa attraverso un server quello che abbiamo abbiamo delle pagine che invece collezionano dei server i torrent e abbiamo dei diciamo super nodi che se che cosa fanno memorizzano chi ha quel dato in modo ovviamente non è che posso per avere un torrent chiedere a chiunque chi ha quel torrent semplicemente vuoi chiedere a questi super nodi se sanno chi ce le ha dopo di che questi super nodi ci mettono in comunicazione però non è un server anche loro alla fine sono elementi peer to peer simile emul anche se ormai molto meno utilizzato ovviamente questo richiede dei servizi orientati alla connessione scusate possiamo avere diversi tipi di servizi servizi orientati alla connessione cosa vuol dire significa l'obiettivo di un servizio orientato alla connessione è di trasferire dati tra due end system abbiamo una prima fase che è quella che dicevo prima in shaking scambiamo informazione di controllo prima della comunicazione è il ciao ciao del protocollo umano e viene creato uno stato tra due host che comuniano fisica in pratica non fisicamente scusate in pratica il server si mette crea un'istanza riserva riserva delle risorse appositamente per la connessione con colui con il client che ha fatto la richiesta quindi deciderà che delle aree di memoria serviranno per metterci dati che verranno trasmessi con quello creerà una porta mettere a disposizione una porta non è la porta di cui parlavo di prima di dispositivo oravissima un po' troppo del dettaglio però una porta all'interno diciamo un thread un'applicazione un processo apposito per gestire le comunicazioni su quello e ci sarà quindi un programma che sta lì in attesa delle comunicazioni che viene da quello specifico utente con cui lui si è connesso ovviamente ritornando al discorso di ieri fino a che non arriva un interrupt ovvero una comunicazione da quell'utente quel programma sta in una fase di sospeso di ready nel momento in cui arriva la comunicazione dell'utente da quello specifico utente quel programma andrà in eseguzione e risponderà a quell'utente di base il protocollo per un servizio orientato alla connessione è il tcp il transmission control protocol servizio orientato alla connessione in internet gestisce un trasferimento affidabile reliable e in ordine di flussi di byte cosa vuol dire? vuol dire che il transfer control protocol garantisce la consegna transfer control protocol ovviamente io ho parlato di edge ai bordi ma in mezzo ci sono tanti altri dispositivi quindi il transfer control protocol è un protocollo che non riguarda solo i due utenti che stanno interagendo il client ma riguarda anche tutti quelli in mezzo tutti i nodi in mezzo dovranno collaborare cooperare per fare in modo che questi dati siano consegnati e di per sé il protocollo garantisce anche quindi dei controlli su la correttezza comporta dei diciamo degli definisce quindi dei metodi per garantire l'ordine del flusso di byte perché? perché magari è facilmente immaginabile se io sto trasferendo un video su internet non posso trasferire in un unico blocco tutto il video dovrò frammentarlo e soprattutto se io sto guardando un video in streaming io dovrò garantire che un frame non arrivi prima non arrivi dopo il successivo ovviamente questo non è realmente possibile può capitare che un frame arrivi dopo il successivo ma comporteranno anche dei delle numerazioni comporta anche la presenza di numerazioni interne che permettano il riordinamento e la ricostruzione del video ha quindi al suo interno ha un controllo di flusso che serve a non dare troppo un router un client un server e soprattutto un client perché perché se ci pensate un server serve google noi chi ha la fibra ha fino a un gigabit al secondo un server google magari è capace di smettere un terabit al secondo è capace di inondare tranquillamente il ricevente e fare in modo che questo non riceve niente quindi ha un controllo quindi su diciamo un modo che lui non riceveva più di un gigabit ma anche meno perché sennò altrimenti altre applicazioni non possono funzionare quindi serve controlla quanto è il flusso ma anche router intermedi hanno un limite di banda quindi serve anche per limitare se io sto il task del conto prodotto ha lo scopo di controllare quanto è stato trasmesso se sta rispondendo se qualche dispositivo nel percorso è diciamo sopraffatto dalla trasmissione regolarsi e rallentare nella trasmissione o accelerare se il flusso è lento e quindi questo comporta quindi anche un controllo della gestione per evitare questi problemi vi sono invece degli servizi non orientati alla connessione servizi senza connessione qual è il loro scopo? lo scopo ovviamente è il trasferimento dati tra dispositivi come prima però in un modo differente è come dire se io voglio sapere l'ora non ho la necessità per forza di fermare una persona instaurarci una umoneazione e bloccare quella persona io posso anche tranquillamente in una stanza tirami su e dire oh qualcuno sa che ora è uno si gira a quell'ora mentre sta facendo altro non si dedica a me ora io qui è stato un esempio al contrario in quanto ho mandato una richiesta a tanti però l'idea è invece avere un dispositivo che è pronto a ricevere qualsiasi domanda direttamente oh mi dimmi che ora è io la mando se lui riceve la risposta non sta a instaurare una umoneazione manda la riceve una domanda manda la risposta indietro e lì per lui è finita l'interazione o magari gli farò un'altra domanda però ovviamente questo metodo comporta anche che se io gli mando una richiesta lui può anche perderla qual è il vantaggio il vantaggio è che ovviamente una maggiore efficienza però un rischio di eh perdere dei dati è quindi un trasferimento dati non affidabili la mia richiesta può essere persa da eh dal server non vi è controllo di flusso non vi è controllo della congestione sto alleggerendo molto il protocollo è utile per per eh applicazioni che devono essere responsive quindi il TCP si basa per HTTP la mia pagina internet deve essere perfetta non posso perdere o avere delle parole sbagliate per il trasferimento di file file transfer protocol che sono quindi qui si sta vedendo altri protocolli che utilizzano TCP telnet fare un login remoto SMTP secure mail transfer protocol ovviamente le nostre mail non ci possono essere errori le nostre mail non devono andare persi d'altra parte vi sono applicazioni tipo streaming audio video teleconferenza telefonia internet ora io prima avrò usata un esempio di connessione orientata in realtà a volte è orientata perché magari quando ci si onnetta Netflix prima di tutto dobbiamo autenticarci però poi quindi è una situazione anche un po' ibe però magari una richiesta una teleconferenza magari non è orientata in quanto non voglio si basa su dp in quanto non voglio garantire che un frame arrivi per forza corretto perché se io perdo un frame e può vedere quello successivo avrò un attimo di ci capita spesso scusi per un momento non l'ho sentita perché perché il nostro prototollo non è concentrato su far ricevere ogni singolo frame ogni singolo istante se non ce la fu chi se ne frega se la persa perderò un po' di qualità perderò un po' un secondo di comunicazione ma quello che mi interessa è andare avanti se perdo un frame prenderò quello successivo questo è l'idea quindi l'utilità di udp andiamo invece a vedere il core è una rete di router interconnessi questione fondamentale come avviene il trasferimento dei dati se io devo andare da qui a qui come avviene fondamentalmente ci sono due metodi il circuit switching e il packet switching il circuit switching è un circuito dedicato per ogni connessione che è quello che fa la rete telefonica significa se io telefonicamente devo parlare con uno di voi telefonicamente il mio operatore di telefonia crea stabilisce nel momento della connessione un percorso che effettuerà la telefonata quindi riserva una parte del loro canale appositamente per quella telefonata quindi tutte le mie parole viaggeranno attraverso quel canale paga switching invece i dati sono trasferiti a blocchi e non viene preallocato un circuito quindi io devo trasferire un file viene suddiviso in pacchetti di differenti dimensioni e un pacchetto può fare questo percorso io l'ho indicato prima un altro può fare quest'altro percorso e quindi significa che ogni router ovviamente sa verso dove deve andare perché ora poi vedremo come deve capirà verso dove andare però se per esempio inizia a notare che questo router è congestionato e cercherà di farlo passare da quelli accanto sceglierà dei router alternativi quando iniziano a esserci troppe connessioni verso una certa direzione si sceglie delle direzioni alternative per cercare di ottimizzare anche più di una eventualmente quando non si sa qual è il percorso migliore quindi nel circuit switching vabbè ve l'ho già detto si prealloca le risorse per la chiamata ovviamente in funzione della banda dei link la faccia degli switch si può dedicare alcune risorse nessuna divisione vabbè e abbiamo delle prestazioni garantite per ogni connessione quindi ovviamente se ad un certo punto non è più possibile garantire una nuova connessione e vi sarà capitato che ho avviato una chiamata e nemmeno parte ovviamente in quel momento non è stato possibile installare un percorso per intero però ovviamente ogni chiamata richiede una fase di installazione nel circuit switching ovviamente cosa si fa? le risorse di rete non sono condivise quindi noi ogni volta che trasmettiamo trasmettiamo su un canale su un canale possiamo fare diverse cose creare tipo dei sottocanali in base alle frequenze quindi io so che ora vabbè voi non avete fatto tecnologie però di base avrete sentito parlare di la frequenza televisiva la frequenza radio tutte quante le trasmissioni avvengono tramite frequenze ora prendo ad esempio la televisione la televisione ad ogni canale la televisione viaggia sul nostro cavo assiale che permette delle differenti frequenze senza stare a spiegare esattamente come ho fatto un segnale vabbè anzi spieghiamolo un attimo il concetto è questo se io so questo è una frequenza questa è un'altra frequenza un'onda a frequenze differenti su un certo canale posso trasmettere di segnale differenti frequenze bene se io inizio a riservare questa frequenza questa quest'altra come dire io all'interno del mio canale magari creo 10 intervalli di frequenze ogni volta io devo trasmettere cerco una frequenza che in quel momento ho utilizzato io mi adatto a trasmettere a quella frequenza oppure posso fare delle divisioni di tempo delle divisioni di tempo io stabilisco creo degli slot magari in un secondo io posso fare creo 10 slot dico ad ognuno te trasmetti nel primo slot del secondo te trasmetti nel secondo te nel terzo e te nel quarto quindi io so che devo trasmettere sempre in quell'istante ovviamente poi abbiamo delle soluzioni che sono miste ovviamente una risorsa data e non utilizzata è una risorsa sprecata pack e switching ogni messaggio è diviso da un pacchetti quindi i pacchetti sono delle unità piccole in cui si deve suddividere qualsiasi nostra trasmissione che sia un file enorme sia un video che sia anche una piccola pagina http difficilmente una trasmissione sta sul solo pacchetto e ogni pacchetto usa tutta la banda quindi è per dire che se io sono un pacchetto è fatto un modo da occupare l'intero slot di trasmissione e non magari di richiedere meno di quello slot di trasmissione le risorse ovviamente sono usate quando servono comporta come si è detto delle tecniche all'interno del packet switching per la contessa delle risorse quindi controllare la congestione per evitare la congestione all'interno dei routers i pacchetti verranno memorizzati e ritrasmessi ovviamente questo può comportare che un router blocca temporaneamente un pacchetto fino a che non riuscirà a ritrasmetterlo ovviamente questo può comportare anche ad un certo punto il router se ne ha troppe dovrà sarà anche incapacitato di memorizzarli in quel caso andranno persi ma si manderà indietro un segnale di errore che ovviamente poi l'utente non se ne accorge però comporterà una nuova ritrasmissione nel caso di TCP ovviamente e quindi i routers apriranno una politica store e forward memorizza pacchetti e trasmetteli appena sarà possibile quindi qui c'è un esempio scusate abbiamo i dispositivi che ha frequenze differenti per esempio a trasmette 10 megabit per il secondo su ethernet viene creato nel router una coda di pacchetti che vengono poi trasmessi ad un altro router quest'altro router prenderà tutti i pacchetti ricevuti quindi avrà quindi sia pacchetti di A sia pacchetti di B li separerà ed inserirà quelli che devono arrivare a C qui e quell'altro al prossimo router e così via il router successivo li dividerà tra D e D e quindi ogni router ha il compito di ricevere ritrasmettere capire anche verso dove trasmettere l'obiettivo di tutto questo è trasferire l'obiettivo dell'instrattamento del routing si chiama è trasferire pacchetti da sorgente a destinazione seguendo un cammino nella rete esistono tantissimi algoritmi di selezione dei cammini e in un certo senso voi lo potete già anche immaginare abbiamo fatto grafi che si è detto ci sono problemi sul grafo che sono applicati all'internet qual è il miglior cammino da seguire qual è il cammino più breve per arrivare da un dispositivo A a un dispositivo B però devo anche evitare la congestione quindi sono tantissimi gli algoritmi proposti nel tempo sono tanti ovviamente merita in un corso di reti meritano tante lezioni per parlarne approfonditamente di base possiamo definire due andiamo due tipologie reti a datagram a datagram networks in cui il prossimo salto è scelto cioè io trasmetto a ruso il più vicino poi a ruso il più vicino e decide dove trasmettere quel singolo pacchetto quindi ogni pacchetto sarà gestito indipendentemente in base all'indirizzo e destinazione però anche in base alla congestione quindi quanti pacchetti è riuscito a trasmettere ci sono stati dei problemi e così via questo è simile alla tipologia postale cosa significa? significa che io so io invio io stabilisco che devo mandare una lettera al DIAG via Reosto lo metto nella setta della posta io sono a Siena in questo momento prende eh l'ufficio delle poste di Siena prende non guarda che va in via Reosto 25 prende il CAP prende una parte di informazione e sa che per mandarlo la dovrà fargli fare un certo percorso se però sa che la strada è interrotta per dei lavori ne farà fare un altro nel momento in cui sarà arrivato all'ufficio postale di Roma l'ufficio postale di Roma lo smisterà ad un altro ufficio postale più vicino a via Reosto l'ufficio postale vicino a via Reosto prenderà e avrà il suo postino che imbucherà esattamente a via Reosto e questo è quello che fa più o meno che è quello che fa una rete datogramma vi sono invece poi rete a circuito virtuale virtual circuit network in cui ogni pacchetto contiene un identifiatore determina il prossimo salto cosa vuol dire? vuol dire che praticamente tutto quanto il percorso il cammino è fissato una volta per tutte in fase di instaurazione quindi quello della telefonia e in questo caso i router mantengono informazione e guardando il pacchetto seguono l'innovazione del pacchetto attenzione circuito virtuale e circuito switching sono delle cose differenti fondamentalmente quando noi andiamo a fare comunicazione su internet immaginiamo che uno di questi debba comuniare tramite un altro di questi andiamo ad identificare passato verso tutta quanta la rete internet e fondamentalmente identifichiamo tre fasi il primo miglio la backbone e l'ultimo miglio cosa sono? la backbone è tutto ciò che ci sta in mezzo il primo miglio e l'ultimo miglio sono quelli gestiti dal nostro internet service provider quindi in mezzo ci sta di tutto all'interno ci sono delle sottoreti di proprietà del nostro internet service provider delle sottoreti di proprietà di altri internet service provider perché? perché io non posso pensare che telecom riesca a creare un percorso verso qualsiasi punto innanzitutto innanzitutto perché io potrei anche fare un'omoneazione tramite con un utente che utilizza un differente internet service provider quindi necessariamente devo passare da l'uno all'altro però magari efficientemente geograficamente ha dei buchi anche telecom e quindi magari gli è più comodo passare attraverso un'area gestita da wind che poi la restituirà magari ad un'altra area gestita da telecom e così via questo ovviamente ha un costo economicamente passare da l'uno all'altro telecom paga wind per poter passare attraverso di loro ma anche wind alla fin fine ha lo stesso problema quindi ripaga telecom per parlare per trasmettere i dati in più ci sono delle reti e sono delle neutral service provider qualcuno che non gliene frega niente di fornire internet a me o a voi ma che ha costruito una rete sotto e offre il servizio quindi quello che vi dicevo prima tipo la nostra gar e non solo e questo gli permette di ovviamente ha sostenuto tutti i costi necessari per trasmettere cavi per tenere rusher eccetera eccetera e ovviamente viene pagata dai nostri internet service provider per potersi appoggiare su di essa ovviamente il primo miglio e l'ultimo miglio sono sempre gestiti nello specifico dal nostro internet service provider il primo miglio l'ultimo miglio i percorsi possono essere differenti per andare da un posto all'altro come si è visto e ovviamente c'è rappresenta anche dei forti oli di bottiglia che sono dovuti anche al tipo di connessione che abbiamo noi se abbiamo una dsl andiamo su 7 megabit al secondo se abbiamo fibra misto rame andiamo su 100 megabit al secondo se abbiamo fibra a casa andiamo su gigabit al secondo tanta roba sembrerebbe ma in mezzo ci troviamo molti più dati di un gigabit al secondo quindi all'interno abbiamo facciamo facciamo la ritrasmettere terabyte al secondo però ovviamente noi quindi possiamo avere una connessione velocissima a mezzo però poi abbiamo questi colli di bottiglia sull'estremità e quindi vi è necessità di eliminare questi colli di bottiglia ci sono delle soluzioni hardware come aumentare la banda che connette al provider che è quello infatti quello che stiamo facendo ora tutti quanti stanno facendo un modo e noi si passi al gigabit al secondo se è possibile vi racconto anche una battuta facciamoci due risate io prima della pandemia avevo la dsl a casa tanto fondamentalmente io sono sempre l'officio la mia moglie usa internet il giusto si usa tramite cellulare la dsl per noi è sempre andato benissimo tanto non abbiamo netflix in casa noi ci stiamo il giusto e non ci interessava a parte la pandemia abbiamo bisogno della di una connessione a modo chiedereci gabit bene si arriva ad un punto in cui viene l'operatore dopo un mese perché è il motivo per cui ho iniziato a registrare tutte queste lezioni perché non riuscivo ad andare in streaming arriva l'operatore che mi dice che viene a fare l'installazione un mese dopo la richiesta perché a causa della pandemia non poteva venire e entrare in casa mia e mi dice no guarda io non ti posso mettere la fibra perché il tuo cavo telefonico è sospeso in area e è a contatto con degli alberi se io ti installo la fibra a contatto con gli alberi io rischio una multa va bene cosa si può fare c'è comunque il doppino di rame se lui non lo tocca usa il doppino di rame mettiamo la fibra misto rame fibra fino alla centralina della strada e poi dalla centralina passo il rame io chiamo l'operatore e mi rispondono no non è possibile perché noi siamo obbligati a metterti la soluzione migliore e nella sua città è la fibra allora io devo fare e tagli rame cioè quindi fino a che io non tagliavo rame quello poi vabbè ho dovuto piantare un cassino allora sono dovuti andare a interpellare il superiore dopo una settimana buona una settimana di continui di rame un'altra settimana prima del superiore autorizzasse che non venisse messa venisse messa la fibra misto rame perché perché il loro obiettivo è fornire la miglior commissione possibile non è nemmeno una visione economica perché fondamentalmente la cifra è la stessa a livello di backbone c'è un grosso spesa da parte degli operatori di migliorare l'infrastruttura che c'è sotto oltretutto poi ci sono anche altri problemi se io voglio comunicare con serve youtube serve youtube è dall'altra parte del mondo ha senso che io ogni volta esce magari il nuovo video di un cantante famosissimo tutti vanno a vedere il video ha senso che andiamo a intasare la rete la backbone anche per andare tutti a chiederlo alla costa ovest americana per intendersi tutte le richieste arrivare fino a là non ha senso perché avremmo tantissime richieste fino a là quello che quindi si lavora tantissimo per risolvere questo problema dalle content delivery networks che è una nuova tipologia in cui i router immagazzinano i dati e quindi in questo caso che poi è quello che fanno i nostri Netflix tutti i router intermedi dedicati a questa cosa immagazzinano i dati e quindi il video io richiedo rimane in cache vicino a dove risiede l'utente e in questo modo lo memorizzo oppure una soluzione alternativa è creare copie dei server nel mondo che è quello che fa Akamai che è un fornitore di server in cui vengono copiate le pagine più richieste quindi abbiamo dei server Akamai che memorizzano copie delle pagine youtube di tutto quello che viene più richiesto in modo che se io fò una richiesta per un certo video non va realmente al server youtube al server Akamai se il server Akamai ce l'ha risponde magari è un server posizionato in Italia se non ce l'ha a quel punto verrà reinstallatata la richiesta al server youtube da sottolineare che questo è quello che si fa anche all'interno del computer in cui si utilizza delle cache delle cache in cui si memorizza delle copie dei dati che con più probabilità verranno richieste a breve guardiamo come è strutturata la backbone la backbone cosa sono? sono dei canali principalmente dei cavi che connettono i vari centri quindi noi abbiamo una backbone europea abbiamo dei cavi passati in europea che connettono i principali città e poi da lì verrà rismistata nuovamente quando noi chiediamo le dati all'America che sono in America passa attraverso cavi fino a Londra per esempio e da Londra arriverà all'America come? l'idea di base si passa attraverso dei satelliti connessioni wireless ma la connessione wireless all'inizio è molto disturbata quindi una connessione satellitare è molto disturbata allora cosa è stato fatto per risolvere questi problemi? sono stati passati dei tubi contenenti migliaia di cavi di fibra sono stati passati nel mare sembra assurdo ma è la realtà abbiamo dei tubi in cui sottomarini che attraversano l'oceano per connettere l'Europa con l'America ma non solo insomma con l'Asia e qualsiasi cosa ovviamente questo comporta tanti problemi queste cave si possono danneggiare rovinare per il passare del tempo si può anche pensare a sabotaggi ovviamente ci sono stati anche casi di sabotaggi da attaccanti che sono andati con dei sub a rovinare questi cavi e quindi ovviamente si passa per questi cavi si passa anche attraverso satelliti però la gran parte dei dati passano attraverso questi cavi sottomarini ovviamente quando abbiamo la necessità di attraversare il mare altrimenti passano tramite dei cavi che sono stati capati abbiamo dei cavi sparsi ovunque sembra una cosa allucinante abbiamo una infrastruttura stradale che passa ovunque possiamo avere dei cavi che passano ovunque tutto sommato e questo è Akamai quello che vi ho detto poco fa è un insieme di 100 più 1.000 server piazzati in 72 nazioni in 1.500 località specifiche 1.000 network e gestiscono il 15-30% del traffico web richiesto quindi quando noi facciamo una richiesta principalmente arriva un server Akamai non a chi facciamo la richiesta perché memorizza i dati una richiesta di una pagina internet di un video ovviamente se noi facciamo una richiesta di una comunicazione Skype non passa al server Akamai non può memorizzare una comunicazione Skype che ancora non è avvenuta ovviamente e quindi gestiscono più di un triglione quindi mille miliardi di richieste gestiscono 30 petabyte di dati e 10 e più milioni di video streaming ovviamente vi ho detto non si parla di video streaming quello della lezione si parla di video YouTube video Netflix video e così via bene come è stato creato questi protocolli di rete? ci siamo ci siamo ci siamo si sono ispirati a una stratificazione come si è visto da fin prima il sistema operativo si passa dall'hardware ci si mette sopra il processore ci si mette sopra la RAM ci si mette sopra i dispositivi in input output scusate l'hard disk poi l'input output no vabbè quello e così via qui le reti sono complesse si è visto abbiamo host router link fisici applicazioni http service eccetera eccetera protocolli se ne è già parlato alcuni di essi ftp e così via abbiamo problemi di hardware cioè abbiamo caratteristiche hardware caratteristiche software eccetera come si si sono posti in passato all'inizio alla nascita di internet la domanda come possiamo organizzare la struttura della rete e ne è nata una forte discussione l'idea di base è stato stratificare quindi fare una sequenza di passi fondamentalmente ritorno al paragone di prima al paragone all'ufficio postale quando io trasmetto una lettera a qualcuno io dico semplicemente a chi è consegnato deve essere consegnata la lettera non sto a preoccuparmi in realtà di quello che viene fatto sotto sotto vi sarà il controllo di destinazione dell'ufficio postale di origine che si deve solo preoccupare di quale sarà l'ufficio postale di destinazione quindi dirà questo deve andare per quell'ufficio postale bene sotto verrà consegnato ad un corriere che va fino a lì e tra parentesi il corriere non si preoccupa di quello che c'è sopra quindi è una sequenza di passi quindi abbiamo una lettera consegna lettera destinazione un controllo ovviamente i vari stati devono comunicare tra di loro quindi io ho la lettera la consegno all'ufficio postale l'ufficio postale contro la destinazione la consegna al corriere il corriere fa il trasporto si preoccupa quindi di metterla sul mezzo specifico l'aereo il treno il camion quello che volete e il corriere di qua lo riceve il corriere di qua lo a questo punto l'ufficio postale lo riceve dal corriere e poi lo consegna a destinazione quindi una lettera fa questo percorso quindi ogni strato idealmente comunica con un altro con un altro espositivo dello stesso strato quindi qui la moniazione tra uffici postali fisicamente però in pratica comunia localmente con chi è sopra e chi è sotto quindi la stratificazione è consegna ammittente a destinatario consegna ufficio postale a ufficio postale trasferimento a sede locale a sede locale e poi sotto il tutto c'è il trasporto questo è un altro esempio abbiamo due filosofi due filosofi vogliono parlare tra di loro di se per sé non ne frega niente poi sotto quello che succede però non parlano la stessa lingua il primo filosofo vuole dire mi piacciono i conigli e bisogna che l'altro filosofo che parla francese riceva questa stessa identica riceva questo messaggio che al filosofo piacciono i conigli allo strato sotto cosa piazziamo mettiamo dei traduttori dei traduttori che per esempio stabiliscono che la lingua comune è l'olandese è strano forse però vabbè questo esempio che è su un certo libro viene utilizzato l'olandese la lingua comune per tutte le emuniazioni tra filosofi all'olandese e quindi il primo filosofo prende l'acrobitz e lo trasforma in il kvin di konig en lok se non siete mai stati in Olanda scoprirete che è la lingua più dura che possa esistere si immagina il tedesco sia duro ma l'olandese forse anche peggio bene quindi il linguista l'ha trasformato in olandese e lo passa alla segretaria quindi questo linguista questo traduttore comunia con questo traduttore il filosofo comunica vuole comunare il filosofo questo questo livello si immuina tra due traduttori per parlare di loro i traduttori si usano le segretarie sotto quindi il messaggio è trasmesso al segretario la segretaria usa fax che a loro volta usano il mezzo di comunicazione quindi si va in comunicazione fisicamente tra layer sopra e sotto localmente però facciamo quindi definiamo delle comunicazioni virtuali tra persone tra enti all'interno dello stesso strato quindi abbiamo delle interfacce tra layer delle comunicazioni virtuali nello stesso layer e dei protocolli per standardizzare tutto il più possibile quindi questa stratificazione permette una più facile organizzazione e individuazione delle funzionalità la modularità facilita la manutenzione e la modifica dei sistemi in quanto la modifica dell'implementazione dei servizi da uno strato è trasparente quindi se io anche modifico qualcosa che è sopra e che è sotto non se ne accorge il tutto quello che teniamo è l'interfaccia quindi se io anche nel passato per esempio se io voglio per esempio cambiare la lingua del filosofo come lingua standard dal dall'olandese al cinese nessuno me lo pedisce l'importante è che io ovviamente offro sempre la possibilità di mandarmi qualsiasi lingua sopra e la possibilità di trasmettere di fornire dei caratteri un foglio alla segretaria che dovrà infilarlo nel fax quindi la mia interfaccia sono il foglio e il messaggio sopra quelle rimangono uguali voglio eliminare il fax chi se ne frega utilizzo un altro mezzo non c'è problema l'importante è fornire al segretario l'interfaccia per i piani sotto per il mezzo fisico quindi se io voglio cambiare il corriere non cambia il funzionamento del servizio postale meno male noi utilizziamo Amazon e un giorno ci arriva un corriere e un giorno dopo ne arriva un altro non cambia Amazon perché cambia il corriere nel momento in cui noi facciamo l'ordine non cambia niente nel definire questo nel cercare di standardizzare era stato a suo tempo creato il modello OSI modello di riferimento OSI che era stato studiato da fiore fiore di scienziati e doveva essere composto di sette livelli perché uso il passato perché è stato un fallimento ora poi vedremo perché ideologicamente era perfetto era meraviglioso i layer erano stati creati per differenti astrazioni ogni layer aveva delle funzioni ben definite le funzioni di un layer erano state create con dei protocolli standard già in mente di chi lo faceva e aveva l'obiettivo di minimizzare il flusso di informazioni attraverso le interfacce il numero di questi layer era considerato ottimo andiamo a vedere quali erano probabilmente i layer di questo modello OSI partiamo dall'alto partiamo dall'alto perché alla fin fine è quello che noi vogliamo utilizzare l'applicazione quindi noi definiamo l'idea era di definire uno strato di applicazione in cui noi andavamo a standardizzare delle varie applicazioni quindi nello standardizzare le applicazioni è quello che poi è stato fatto standardizziamo per esempio come si trasmette http il file transfer protocol per le mail quindi creiamo uno strato applicativo su cui ovviamente poi si appoggiano le nostre vere applicazioni queste nostre applicazioni poi venivano trasformate quindi definiti questi standard per le nostre applicazioni ci si appoggiavano allo stato di presentazione quindi come doveva essere poi configurato tutto quanto la nostra comunicazione quindi creare dei pacchetti standard per la comunicazione su cui si dovevano appoggiare tutte quante le applicazioni a questo punto sotto c'era uno strato di sessione la sessione cosa comporta? comporta la quindi questo il tutto ciò che riguarda il mettere in comunicazione due entità io voglio comunicare con te creiamo una sessione comunicativa definiamo che ne so un protocollo crittografico tutto quanto e lo può servire per comunicare point to point sotto ci sta il trasporto definire tutto come deve essere rappresentato i dati in modo da poter comunicare quindi fornisce un canale logico affidabile di comunicazione end to end per pacchetti qui in mezzo c'è i servizi orientati alla connessione quindi il livello di rete devono quindi occuparsi di fornire un corretto ordine di consegna come vi ho detto sotto io so immagino già che il mio connessione io devo trasmettere un dato grande avrò la necessità di frammentarlo devo fornire che devo garantire che siano consegnati nell'ordine corretto o meglio se arrivano in un ordine non corretto al piano sopra li devo consegnare in ordine corretto quindi io che ricevo io trasmetto e trasmetto ovviamente in ordine primo pacchetto secondo terzo quarto e quinto se non mi arrivano se non mi arrivano questo ordine io qui aspetto che se ho ricevuto il terzo nel secondo tengo il memoria al terzo aspetto il secondo il momento in cui ho ricevuto il secondo fornisco al livello sopra il secondo e poi dopo fornirò il terzo in questo livello si fa il controllo del flusso quello che vi ho detto prima il controllo di congestione e così via e si anche garantisce per esempio si fornisce anche la possibilità di gestire diversi percorsi quindi è a questo livello e si pensa anche diversi percorsi e si sta anche a moltiplicare le nostre trasmissioni in modo da fare diversi percorsi sotto via lo strato di rete il network a questo punto si controlla nel router si controlla che i pacchetti siano realmente consegnati quindi a questo livello a livello sopra a livello di trasporto non ci si preoccupa che il livello che il pacchetto sia insegnato a livello di trasporto se io trasmetto un pacchetto almeno in TCP non in UDP io voglio io assumo che chi c'è sotto garantisca che sta insegnando a livello di rete invece si controlla che i pacchetti siano realmente consegnati quindi comporta se io trasmetto qualcosa ricevo una risposta che non viene mostrata all'utente ma il computer sa che il pacchetto è stato consegnato altrimenti ovviamente dovrà riconsegnarlo questo a livello di commutazione di pacchetto ovviamente non posso io che ho creato il pacchetto e l'ho trasmesso preoccuparmi che venga consegnato al server youtube a cui io mi sto collegando in realtà io so che a mezzo ci sono tanti router a livello di router non gliene frega niente di tutto quello che c'è sopra quindi l'appreazione la presentazione la sessione trasporto però a livello di router già contiene anche il livello di rete e quelli sotto quindi nel momento in cui io voglio comunicare con il server youtube sarà questo router che mi dirà l'ho ricevuto questo router a sua volta parlerà con un altro router accanto e si preoccuperà di tenere in memoria il pacchetto che io gli ho mandato fino a che quell'altro mi dirà oh io l'ho ricevuto e così via alla fine questo arriverà alla fine nel caso a un certo punto questo pacchetto non possa essere consegnato è riparato tutto il percorso indietro per ricomunicare in possibilità di consegna fino all'utente che ne aveva richiesto la comunicazione a livello di collegamento data link cosa si fa si suddivide dati in frame di qualche centinaio migliaio di byte che servono per regolarizzare il traffico in caso di risorilento e in più si inserisce anche altre informazioni del tipo controllo dell'errore quando noi trasmettiamo qualcosa può capitare un errore vi fa un esempio noi paragone postale noi trasmettiamo mandiamo una lettera la nostra lettera si può bagnare nel percorso via un errore ovviamente in questo caso l'errore come viene gestito viene gestito da chi lo riceve e magari si sforza a leggerlo a livello di internet vi saranno sono dei protocolli nel livello di collegamento di data link in cui possiamo fare due cose o normalmente vengono aggiunti dei bit dei byte il check sum di cui se ne parlava anche ieri alla fin fine per la memorizzazione dei dati nel disco che possono permettere due cose uno rilevare l'errore se io router mi accorgo che i dati là dentro non sono consistenti posso richiedere nuovamente la trasmissione a chi me l'ha mandato che ovviamente se me l'ha mandato aveva controllato erano corretti quindi c'è stato un errore e me lo richiede nuovamente oppure ci possono essere dei protocolli di correzione degli errori in modo da ripristinare i dati iniziali e trasmetterli nuovamente al livello sotto vi è lo strato fisico lo strato fisico definiamo in questo strato tutti i protocolli per trasmettere bene io sto trasmettendo su un cavo di fibra come devo rappresentare fin fine vi ricordo qualsiasi dato che noi trasmettiamo altro non è che una sequenza di 0 e 1 come lo rappresento l'1 sulla fibra sulla fibra quello che io trasmetto è un segnale luminoso come se accendesse una lampadina prima del cavo e lo richiudo sul doppino di rame è un segnale elettrico bene prendiamo il segnale elettrico forse è un pochino più chiaro siamo sul doppino di rame devo lo strato fisico a questo livello noi si stabilisce tutti gli standard ovvero quanti volt devo utilizzare quando io trasmetto l'1 e quanti volt devo cioè è un segnale elettrico quanti volt deve avere il segnale elettrico quando trasmetto l'1 e quanti lo 0 e poi di base si può pensare che lo 0 non trasmetto niente no assegno un voltaggio differente perché niente vuol dire assenza di collegamento per esempio si utilizza lo 0 volt per dire non lo sto collegando e poi quanto deve durare la trasmissione di un bit perché se io trasmetto 1 1 1 come fa il ricevente a capire se ho trasmesso 3 1 oppure ho trasmesso 2 1 devono avere una durata oppure in mezzo ci deve essere qualcosa che mi serve per stabilire finito un 1 e ne parte un altro del tipo voltaggio 0 quello che vi dicevo prima quindi magari per dire per la trasmissione di un 1 è 5 volt la trasmissione dello 0 è 3 volt e in mezzo ci metto dei piccoli intervalli di 0 volt per separare l'uno dall'altro oppure posso anche creare dei pacchetti in cui per esempio stabilisco l'1 valori da 1 a 4 1 volt e per 1 con per lo 0 1 due volte è per trasmettere 1 0 tre volte è per trasmettere 1 1 quindi posso anche creare delle raffigurazioni del genere e che sono ovviamente però io non me lo posso inventare ho la necessità degli standard in modo che chi riceve il dato sul mio doppino telefonio o sulla mia fibra possa capire cosa io sto trasmettendo nel caso di comunicazione di circuito ovviamente si stabilisce un percorso perfetto che è quello quindi in questo caso si va a eliminare tutti i protocolli i livelli di rete di collegamento e vengono gestiti direttamente fisio ovviamente nel mezzo nella mia commutazione di circuito io posso capitare e passo dal mio doppino a telefonio ad una fibra a una comunicazione radio e così via perché vi ho detto questo modello che di per sé sembra perfetto non ha realmente funzionato uno cattivo timing questa è forse la cosa più fondamentale nel momento in cui stava nascendo internet questi si sono messi al tavolino per tanto tempo per definire questi sette strati tutte le loro caratteristiche però nel frattempo chi utilizzava internet aveva bisogno chi voleva sentiva la necessità di internet aveva necessità di qualcosa quindi sono nate le prime implementazioni le prime io volevo trasmettere con te ho scritto questo iniziavano a definire delle applicazioni di trasmissione che non erano perfette non rispettavano esattamente questo modello OSI però erano funzionanti quindi uscito dal modello OSI ad un certo punto però c'era già quest'altri che intanto venivano utilizzati erano funzionanti e quindi chi è che si è messo a buttare via un sistema di umaneazioni che ormai stava utilizzando perché doveva utilizzare quello bello fighetto utilizzato quindi questo ha insegnato la necessità di essere rapidi anche nel definire queste nuove tecnologie perché attenti poi ne nascono altre che poi è stato il reale l'attuale internet che eh sono diventate preferite cattiva tecnologia perché si stavano a preoccupare di eh definire degli standard discutevano però nel frattempo queste altre si sono anche messi lì e le avevano anche ottimizzate le tecnologie avevano già implementato che avevano già messo su cattiva implementazione e poi cattiva politica perché cattiva politica perché questo è è stato anche questo modello isosi un'idea di e qui è una tirata di orecchie eh che insegnava tanto ai colleghi chi ovviamente mi ha preceduto lì erano delle università che si erano messe lì avevano stabilito come doveva funzionare il tutto senza preoccuparsi però che eh ovviamente poi gli utenti non erano delle università erano anche delle aziende e quando queste aziende nell'attesa che loro finissero tutto avevano speso soldi per creare dispositivi di rete che comunicavano come gli pareva loro avevano scritto dei protocolli e ovviamente questi non si sono messi a a rifare tutto perché qualche donato gli diceva ma così è meglio e ovviamente hanno avuto anche influenze politiche e quindi è da questo che attualmente qualsiasi progetto scientifico convolgerà sempre università che sono quindi all'avanguardia nella ricerca scientifica ma anche aziende che devono mettere poi in pratica che hanno interesse a a monetizzare la cosa e quindi ci siamo ritrovati con un internet magari non perfetto come quel modello ideale ma funzionante che è composto solo da cinque strati qualcosa ovviamente in comune è simile si parte dal basso al basso abbiamo il strato fisico bit quindi come si rasmette bit sul cavo abbiamo uno stato di link e quindi significa che chi si è messo a creare i primi circuiti della trasmissione poi a un certo punto l'ha anche fatta da padrone ovviamente sul come farlo sopra abbiamo uno strato di link che si occupa del trasferimento dei dati tra elementi della rete adiacente sopra questo uno strato di network trasferimento e datagrammi da sorgente a destinazione e quindi qui ci si mette quello e poi vedremo ora l'IP tutti i protocolli di routing sopra uno stato di trasporto come lo trasferiamo orientato alla connessione TCP o non orientato alla connessione UDP e sopra le applicazioni quindi siamo andati a eliminare strati come presentazione e raggruppare insieme sessione trasporto in pratica e a sua volta addirittura questi sono stati messi in internet in tre livelli ovvero trasporto e rete sono stati accoppiati così come link e fisico sono stati accoppiati e si arriva quindi a l'applicazione che chiede io voglio una pagina da uniroma1.it quindi a livello di applicazione si richiede la pagina internet si richiede le mail eccetera eccetera e si chiede e si stabilisce a chi abbiamo poi questo stato intermedio che è interoperabilità che trasforma le nostre richieste in un pacchetto dati che deve essere consegnato ad un certo ip e poi a livello fisico in cui noi in realtà non ci interessiamo nemmeno più all'ip noi andiamo a comunicare attraverso livello fisico si parla attraverso dispositivi che sono identificati da un mac quindi cos'è un mac l'ip sicuramente l'avete sentito perché è abbastanza classico cos'è il mac quando voi aprite prendete un computer prendete un cellulare è una stringa esadecimale nuovamente separata da due punti quindi tipo ab due punti c1 due punti tre cinque due punti sette otto due punti ab due punti scusa scusate è corretto ho saltato di una lettera evidentemente e che è probabilmente un identificatore univoco di ogni dispositivo di rete quindi il nostro wifi c'ha un mac che è un unico in tutto il mondo il nostro schede di rete quindi fisica c'ha un mac che è unico il router ha un mac che è unico poi magari se anche ci fosse uno ripetuto la probabilità che si ritrovino a comunicare direttamente l'uno con l'altro ha poco senso quindi io a livello di operazione chiedo di comunicare con www.roma1.it nel passare sotto viene trasformato nell'ip corrispondente e nel passare sotto questo diventerà io il mio computer vuole comunicare con il mio router quindi vuoi richiedere tra tutti i computer che ci sono i miei dispositivi che ci sono in mia rete di casa io vuoi dire voglio questo pacchetto deve andare al router il router lo prenderà guarderà di sopra il livello sopra bene chi era l'ip ah per andare l'ip deve andare a quel altro dispositivo che ha quel mac che guarderà deve andare qui deve andare a quel altro dispositivo a quel mac e così via verrà propagato fino a che non arriva al computer finale che ha un certo mac di cui io non sono assolutamente a conoscenza ma il nodo prima lo saprà e a quel punto lui dirà ah sono io per il dp bene quindi era per me e lo passo all'applicazione sopra quindi ogni strato noi noi creiamo quindi una comunicazione logica tra due dispositivi in un ambiente distribuito perché ovviamente nella nostra rete ci abbiamo il nostro internet abbiamo è un sistema distribuito è ricco di dispositivi l'entità implementa una funzionalità di strato in ogni nodo quindi ogni singolo dispositivo implica tutti quanti i livelli tranne ovviamente i router che hanno solo quei livelli eh base non hanno l'applicazione il router non ha bisogno di leggere la nostra email ovviamente ha bisogno dei due strati degli strati più bassi e ogni entità esegue azione e scambia messaggi con altre entità accanto e questo è quello che si vede quindi dispositivi finali hanno cinque strati logicamente a livello di trasporto noi si va a parlare direttamente con dispositivo finale che risponde con l'ho ricevuto però in pratica fisicamente significa il dato attraverso tutti quanti i layer per arrivare al costo quindi il mio dato dalla preazione passa a livello di trasporto a livello di network a livello fisico a livello link a livello fisico arriva a route più vicino dal livello fisico passa a livello link a livello network servono per correggere gli errori a livello link per capire chi è il prossimo a cui andrà e poi ritornerà a livello link a livello fisico e si riva a quello successivo a destinazione e attraverso tutti i livelli per arrivare all'applicazione e quindi questo è fondamentalmente il percorso che fa nei dati ovviamente per gestire tutto questo l'applicazione ha un messaggio a livello di trasporto si va ad aggiungere delle informazioni aggiuntive tipo inizio messaggio fine messaggio a livello rete si vanno ad aggiungere altre informazioni del tipo il messaggio era per ovviamente a livello di trasporto si va a metterci per esempio l'ip a livello di rete scendendo si va ad aggiungerci chi è il mac a livello di link si va aggiungere informazioni e così via poi ognuno di questi hanno un nome a livello di applicazione si parla di messaggio a livello di trasporto si parla di segmento a livello di rete si parla di datagramma a livello link si parla di frame a livello fisico si parla di segnali elettrici internet come ho detto è una struttura gerarchica in cui si parla il mezzo che c'è c'è backbone gestito da approvate nazionali questo ve l'avevo già raccontato andiamo oltre andiamo a guardare principalmente due protocolli il protocollo IP l'internet protocol che è che è probabilmente lo strato di trasporto e poi andremo a vedere e poi andiamo a vedere il transfer control protocol che è livello di rete questo è infatti noi l'avrete sentito sicuramente TCP IP sono due livelli differenti però si accoppiano molto perché IP si appoggia su TCP IP IP è una grande coperta che nasconde ai protocolli sovrastanti quindi alle attuazioni tutta la disomogeneità che c'è sotto per far questo ha bisogno di due funzionalità di base l'indirizzamento di rete e quindi avere dei indirizzi omogenei a dispetto della rete fisica sottostante quindi noi si comunica specifiando degli indirizzi standard 255 punto 47 punto 318 punto 96 quattro numeri che poi altro non sono quattro numeri separati da punto che poi altro non sono che 2 byte perché questi quattro numeri avranno valori da 0 e 255 e a livello IP ci si preoccupa di installamento di pacchetti di routing capacità di inviare i pacchetti da uno all'altro IP è senza connessione quindi è datacan based senza connessione in questo caso non senza connessione cioè lui non si preoccupa della consegna la consegna garantita è garantita a livello sotto lui si preoccupa solo di trasmettere i dati l'IP si basa sul fatto che sotto venga consegnato se si appoggia su tcp se si appoggia su dp verrà consegnato se tutto va bene non andrà consegnato ovviamente è un protocollo è un protocollo best effort che si appoggia che considera che quindi i pacchetti possono andare persi possono essere insegnati non in sequenza quindi è qui che si ricostruisce la sequenza possono arrivare duplicati perché se io per essere sure arrivi mando su due percorsi differenti io il mio pacchetto poi arriva da due percorsi differenti e il ritardo intermedio può essere arbitrario non può sono tenuto a sapere qual è e ovviamente il protocollo IP fornisce anche servizi di compatibilità con l'hardware sottostante quindi frammenta il messaggio ricevuto e lo riassembla lo riordina riassembla elimina duplicati e così via e oltretutto contiene genera una rispondenza con gli indirizzi a livello sottostante che è il protocollo ARP è un protocollo interfaccia che ha lo scopo di a livello sottostante vi ho detto via il MEC il protocollo ARP ha lo scopo di trovare il MEC che corrisponde con l'IP quindi è come dire quando io voglio trasmettere con qualcuno io non posso sapere i MEC di chiunque però quello che fa è io voglio trasmettere questo IP mando un messaggio su tutta la rete la rete ovviamente fino al primo router e aspetto e mi risponda qualcuno quindi voglio comunare con questo IP mando questo messaggio sulla rete i vari dispositivi mi guarderanno e diranno no io non sono quell'IP non ce l'ho se uno di loro ha quell'IP dice sono io mettendo il MEC quindi a quel punto a livello sotto si sa che un'azione andrà verso quel MEC verso il dispositivo a quel MEC se non risponde nessuno sarà il router che risponde per andare all'IP comuniamo a me questo MEC e quindi durante poi tutti i messaggi arriveranno al router a quel punto sarà il router che comunierà con un altro che risponde e così via l'indirizzo come vi ho detto è 4 byte 32 bit generalmente questi byte sono sempre suddivisi in due porzioni del tipo penso 133 punto ora sto inventando punto 48 punto 76 punto 99 bene una parte di questa è comune per tutta la rete quindi magari la rete google ora prendo a caso eh ci sono non sto sono differenti tipologie di rete in base alla dimensione eh ci sono varie categorie ora prendo a caso mettiamo che se fosse semplice non sto ad entrare nei dettagli questa è la rete un router che vede 103.48 ignora il 76.99 capisce solo da questo dove deve arrivare una volta che siamo che il nostro pacchetto è arrivato all'interno della rete i router interni alla rete guardando il 76.99 capiscono dove andare quando noi andiamo su internet noi abbiamo un IP locale gli IP locali sono di base tutti quanti 192 punto 168 punto qui o è 0 o è 1 punto il numero significa che i nostri dispositivi abbiamo una rete che supporta fino a 255 dispositivi tutte le comunicazioni tra i dispositivi locali della stessa rete avviene mandando un messaggio ad uno di questi IP nel momento in cui noi andiamo fuori sarà il nostro internet service provider che maschera la nostra rete locale con un IP che sarà comune poi per tutta la rete se per esempio volete sapere quale è potete per esempio fare my IP chiedete a google my IP what is my IP address ci sono varie pagine che vi risponde per esempio la mia il mio IP è 95 244 184 167 la mia rete locale tutta la mia rete locale è stata mappata su questo IP quindi serve google che risponde risponde a questo IP questo IP arriva poi alla mia telefona al mio router di casa che ovviamente estraderà in base a chi l'ha fatto quindi c'è in realtà anche un cambio di IP tra interno e esterno concludo con una semplice cosa vi ho parlato prima di ARP quindi come si ottiene come si ritrovano IP quando si associa ai Mac fisici però in realtà io non posso ricordarmi l'IP una stringa quattro numeri per tutto è controintuitivo per me magari l'applicazione si ma io che chiedo una pagina internet per esempio HTTP non posso io tento ricordarmi supponiamo mhm io quello che voglio è www.iroma1.it ora supponiamo in questo esempio il client vuole accedere a theapplearning.com cosa fa? sfrutta dei server che si chiamano domain name system che hanno lo scopo di comunicare a qualsiasi applicazione qual è l'IP corrispondente al nome che noi vogliamo il nome di dominio il nome di dominio sarà theapplearning.com ovviamente poi ci sarà il barra quando arriva lì poi il barra sarà il server che gestirà tutto quello dopo la barra come si fa? si manda prima di tutto la richiesta ovviamente ci si è un nostro internet service provider che la manderà al primo server DNS server DNS c'ha dentro una tabella che accoppia nomi a indirizzi IP e controlla controlla ce l'ho non ce l'ho a don't even in record ad applearning.com lo chiede ad un altro server DNS quindi può a questo server DNS questo ce l'ha io ce l'ho e so che l'IP address è 103 21 59 199 e lo rimanda a questo server DNS questo server lo memorizza lo mette in modo da sapere quella risposta per tutte le volte dopo e lo rimanda tramite l'internet service provider al client il client a questo punto il nostro browser memorizza che quella pagina sarà all'interno nella cache sarà all'interno è corrispondente a quell'IP e quindi da qui ovviamente ora qui la freccia dritto ma passa all'internet service provider a questo punto la richiesta andrà direttamente a quell'IP quindi server DNS servono per risolvere i problemi se io per esempio volessi andare su www.leccalecca.com magari non esiste nemmeno il mio computer su leccalecca.com non c'è mandata sarà la pagina di tutti leccalecca da quelli a pallina quelli tondi quelli cioè ognuno come gli pare ovviamente se il mio computer non ci ha mandato non può sapere tutte o quante la richiesta di leccalecca nel momento in cui non ce l'ho rientrà a un server DNS con questo abbiamo chiuso la parte di teoria domani la professoressa Merini ritornerà un attimo sulla programmazione però non faremo realmente cioè vedremo degli aspetti di python ma non degli aspetti che riguardano materiali di esame magari potranno esserci delle domande di teoria su quell'argomento cos'è il plot come fare quindi come visualizzare i nostri dati in un modo creare dei grafici e cose varie con questo io ho chiuso le mie lezioni ovviamente sono a disposizione per giovedì sarò al nostro laboratorio virtuale sono a disposizione se qualsiasi domanda qualsiasi dubbio su tutto il programma vi ricordo prima di tutto se la domanda può essere utile per chiunque si consiglia di metterla su piazza una risposta alla vostra domanda può essere una risposta utile per tutti infine intanto fa una cosa mentre parlo infine ovviamente io sono a disposizione anche per ricevimento quindi se volete parlare con me di qualsiasi cosa farvi rispiegare a voce qualsiasi cosa mi scrivete la mail e poi io in base al momento quando ho un momento libero si fissa un appuntamento o un google meet o uno zoom o uno skype si parla tu per tu quando ovviamente magari c'è qualcosa un pochino più complesso della semplice domanda piazza non esitate a fare il cemento quindi vi saluto e in bocca al lufo per lo studio e l'esame mi dispiace ovviamente di concludere questo corso così mi dispiace se qualcosa magari non l'avete trovata interessante non l'avete trovata stimolante in questo modo dell'assenza di interazione vi garantisco è piaciuto pochissimo anche a me e spero le cose si risolvino che dagli anni prossimi non sia più così i corsi quindi buona serata a tutti ci si vede giovedì